Lo spiegava Morandi, il ponte lui l'ha costruito come usavano costruire i forni gli egiziani, torniamo agli egiziani, cioè con tante conci, tante pietre messe ad arco che si tenevano da solo, il ponte si legge così perché c'è 13 giunti, queste 13 giunti sono fatte, lui faceva un esempio, faccio pure io, c'è come la collonna che si è data sul collo di una signora, ognuno prende il posto suo.